Bimbo morto a scuola, un paese sotto shock, la tragedia di Sant'Antonio Abate, la procura ha aperto un'inchiesta attesa per i risultati dell'autopsia, il piccolo si è sentito male durante l'ora di educazione fisica, al microfono di 8 Channel il dolore di un'intera comunità. Consolato greco a Napoli, un fermo per l'attentato, un giovane anarco insurrezionalista è stato arrestato dalla polizia e ritenuto uno dei due autori dell'attentato alla sede diplomatica avvenuto nel marzo di due anni fa. Sul suo telefono ricerche sul web per fabbricare esplosivi. Autonomia e sanità deluca contro il governo, le mancate risposte per la fuga dei medici dal pronto soccorso, il presidente inaugura un nuovo reparto all'ospedale di San Severino e critica all'esecutivo Meloni e sulla riforma avverte il sud rischia di farsi male. Addio a Gianni Minà, aveva Napoli nel cuore il celebre giornalista, scrittore e conduttore televisivo e scomparso all'età di 84 anni. L'amicizia con Maradona, Troisi e Pino Daniele legatissimo a Napoli che nel 2019 gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. Campo di calcio in carcere, un segnale di rinascita. Ad Avellino il taglio del nastro del nuovo impianto, il garante dei detenuti Ciambriello dopo 40 anni finalmente una iniziativa sociale. La gioia della direttrice Felaco che annuncia altri progetti di carattere rieducativo. Sagno S.S. dei sindaci, l'alta velocità non basta, le aree interne rischiano di restare isolate soprattutto se il progetto del collegamento ferroviario offrirà poche occasioni di sviluppo per Benevento. E l'allarme che arriva dal sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo. E questi titoli di oggi ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura muore a 8 anni a scuola. La comunità di Sant'Antonio Abbate è sotto shock per la morte del piccolo Giovanni. Un paese a lutto e chiuso nel silenzio. Per noi Paola Iandolo. Sant'Antonio Abbate è chiusa nel dolore. La comunità è incredula per la morte di Giovanni. Un lutto che ha colpito tutti. Questa alle mie spalle è la scuola che frequentava il piccolo di 8 anni. Qui dove ieri, mentre era in palestra, si è accasciato improvvisamente davanti ai suoi compagni. Sono state attivate subito le manovre di soccorso. Poi dopo pochi minuti è arrivata un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale. Purtroppo è arrivato privo di vita. Secondo i medici il bimbo potrebbe essere morto per arresto cardiaco causato da una malformazione mai diagnosticata. Ma solo l'esame autoptico potrà chiarire il motivo del decesso. Nella scuola dei Cortis era presente il defibrillatore, strumento indispensabile in tutte le strutture, dichiara il direttore dei corsi BLSD nazionale. Il defibrillatore se ci sta e non ti sa usare, è come guidare una macchina, non avere la patente, è mai guidata poi la macchina. Quindi per sentito dire che fa tutto da solo, ma non è così. Bisogna essere abilitati e certificati con centri autorizzati. Ora resta il dolore per la morte di un bambino avvenuta così improvvisamente e senza alcun motivo. Ci immaginiamo il dolore di quella mamma e di quel papà che Dio la possa aiutare. È bruttissimo. Se è un bambino di otto anni è brutto, è brutto. Siamo sconvolti tutti, tutti come siamo qui. Non dovrebbe mai succedere. Anche se non li conosciamo però siamo tutti e tutti addolorati. Un giovane ritenuto appartenente alla galassia anarco-insurrezionalista napoletana accusato di aver compiuto il 4 marzo 2021 l'attentato ai danni del consolato onorario di Grecia a Napoli e stato arrestato dalla polizia. Secondo quanto emerso dalle indagini della Digos, il giovane per mettere a segno l'attentato ha utilizzato un ordigno di tipo improvvisato e illegale composto da un artificio pirotecnico esplodente denominato Rambo, assemblato mediante carta gommata a una bomboletta spray di deodorante che al momento della deflagrazione ha causato conseguenze sia di rompenti che incendiarie. Al ragazzo viene contestata dagli inquirenti Digos e Procura di Napoli l'aggravante terroristica ed eversiva dell'Ordine Democratico. L'attentato aveva infatti l'obiettivo di destabilizzare le istituzioni della Grecia per costringerle ad astenersi o a modificare decisioni attinenti il trattamento carcerario dei condannati per terrorismo. Ancora un attacco al governo su sanità e autonomia dal presidente Vincenzo De Luca al mercato San Severino per l'inaugurazione del nuovo reparto di endoscopia dell'ospedale. Vediamo con Sara Botte. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca torna ad attaccare il governo sulla sanità a margine dell'inaugurazione della nuova sede di endoscopia operativa dell'ospedale Fuscito di Mercato San Severino, Salerno. Il governatore ha affrontato ancora la questione della grave carenza di personale in corsia. Facciamo i conti in questo periodo con una difficoltà drammatica che riguarda il personale rispetto alla quale il governo di prima e il governo di oggi non hanno fatto assolutamente nulla. Nei protocorsi abbiamo una fuga dei pochi medici che ci sono. La sensazione che si ha è che stiamo andando verso un altro sistema, quello all'americana con le assicurazioni private. E sull'autonomia De Luca ha chiarito. Non rischiamo di farci male come Mezzogiorno d'Italia. L'autonomia va avanti con il suo percorso parlamentare. Quello che è già stato attuato è un furto di decine di miliardi a spese del Mezzogiorno d'Italia. Ma nessuno pare sia interessato alla cosa, tranne la regione Campania ovviamente. Il presidente ha lanciato strale anche sul Comitato Nazionale incaricato della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Questa è un'altra truffa mediatica del mio amico Calderoni. Stiamo perdendo tempo anche da questo punto di vista, però nel frattempo stanno bloccando decine di miliardi di euro destinati al sud. De Luca ha poi difeso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, oggetto di ispezioni ministeriali dopo le ripetute interrogazioni parlamentari di Fratelli d'Italia. Un'altra speculazione indegna. Pensiamo a lavorare. Addio a Gianni Minà. È scomparso all'età di 84 anni l'amicizia del giornalista con Maradona, Troisi e Pino Daniele, legato molto alla città di Napoli. A Minà fu conferita la cittadinanza onoraria nel 2019. Sentiamo Carmine Quaglia. Ho raccontato il mondo con le voci dei protagonisti. Così Gianni Minà sintetizzò la sua carriera e il mondo del giornalismo, dello spettacolo e della cultura piange la sua scomparsa all'età di 84 anni. Torinese, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, Minà ha seguito da inviato otto mondiali di calcio e sette edizioni dei giochi olimpici. Chiaro segnale della partecipazione all'evento, vissuto al di là della richiesta editoriale, in primis per interesse personale, come accadde il 12 settembre 1979 alle Universiadi di Città del Messico, con il record mondiale di Pietro Menea sui 200 metri. Minà ha aperto a un nuovo modo di raccontare il personaggio, sportivo ma non solo, nazionale e internazionale, con programmi documentari, reportage entrati di diritto nella storia della televisione, con protagonisti eccezionali, dal Dalai Lama a Fidel Castro, passando per Gabriel Garcia Marquez, Mohamed Ali, Diego Armando Maradona. Minà ha raccontato il Napoli dei primi due scudetti, tutta l'avventura del pibe d'oro di cui è stato autentico confessore, una grande amicizia con Diego e con due simboli di Napoli, Massimo Troisi e Pino Daniele. In virtù del legame con la città partenopea, nel 2019 gli fu conferita la cittadinanza onoraria dalla loro sindaco Luigi De Magistris. Minà ha saputo raccontare in un modo unico e genuino uomini come Troisi e Maradona, sottolinea il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi. Con tristezza diamo addio a un grande giornalista, un narratore delle storie dei grandi, che ha sempre avuto Napoli nel cuore. Incidente mortale la notte scorsa sulla statale sannitica Casoria. Un uomo di 26 anni che era a bordo di uno scooter è morto ad intervenire sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della stazione di Casoria. A scontrarsi una lancia Y condotta da un 32enne di Casoria, a bordo anche una 22enne e uno scooter Honda guidato dal 26enne con un passeggero, un 24enne. Il 26enne è morto sul colpo mentre il 24enne è stato portato al Cardarelli in codice rosso. Le due persone nell'autovettura sono state trasferite all'ospedale San Giovanni di Dio di Fratta Maggiore e sono già state dimesse. Indagini in corso per definire la dinamica dell'incidente. Allarme e sicurezza a Napoli. Prime aperture del governo alle richieste del sindaco. 4 milioni per avere più poliziotti e soldati per presidiare Mergellina. Rossella Strianese. Il ministro piante dose apre alle richieste del sindaco Manfredi. In arrivo 5 milioni in più per garantire la sicurezza a Napoli e soprattutto per assicurare gli uomini necessari al presidio notturno delle strade. Non solo. Il controllo della Movida da Chiaia a Mergellina sarà garantito anche grazie ai soldati dell'esercito che utilizzeranno metal detector per bloccare chi gira armato. E su questo punto Manfredi ha chiesto anche che vengano applicate sanzioni amministrative alle famiglie dei minori trovati con coltelli. Sono solo alcune delle risposte giunte ieri sera dal Viminale nel corso della riunione con i sindaci delle tre capitali Milano, Roma e Napoli. Grande soddisfazione per il via libera poi all'assunzione di nuovi 150 vigili urbani a Napoli con contratto a tempo determinato. Il ministro ci ha comunicato che per quest'anno implementerà il fondo sicurezza che consente al comune di Napoli di assumere più personale a contratto a tempo determinato di vigili urbani. Ha anticipato che saranno sanziati credo tra 15-18 milioni per i sistemi di videosorveglianza. La valutazione anche di orari più flessibili per far fronte alla vita notturna che sono Mergellina e Piazza Garibaldi. Dove è una donna direttiva per cui su Piazza Garibaldi ci sarà anche lì un impianto interforze. Con questi servizi che noi assicuriamo in maniera stabile e sistematica garantiamo sui tre giorni, venerdì sabato, sabato e domenica, domenica e lunedì una presenza interforze. Probabilmente sarà arricchita anche da una pattuglia dell'esercito. Un regolamento di conti per la gestione delle piazze di spaccio è per questo che lo scorso 8 marzo a Sant'Antimo nel Napoletano è stato ucciso Antonio Bortone, un ragazzo di 25 anni. A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno arrestato quattro persone di Scampia, Sant'Antimo e Grumo Nevano. Gli arrestati sono tutti ritenuti vicini al clan camorristico Ranucci. Durante l'agguato venne ferito anche un 29enne, Mario Disidoro. Gli investigatori hanno spiegato che all'indirizzo dei due vennero esplosi numerosi colpi di arma da fuoco che avevano ferito mortalmente Bortone, lasciato diverso a terra nel cortile di un complesso residenziale in via Solimene e ferito Disidoro, il cui Borsello indossato a tracolla aveva deviato la traiettoria di alcuni proiettili salvandogli di fatto la vita. Un campo da calcio nel carcere di Bellizzi Irpino. Oggi il taglio del nastro con i detenuti in campo per dare un calcio alla criminalità. Simonetta Iepariello. Squadre miste in campo con detenuti e atleti per una partita che ha il sapore della rinascita nel segno della legalità nel centro sportivo polivalente del carcere di Bellizzi. Oggi il taglio del nastro atteso da 40 anni per un campo verde che ricorda la finalità rieducativa della pena. Sono emozionata per questo momento perché so quanto i ragazzi attendevano. Io sono arrivata qui soltanto l'8 giugno e loro già da 9 giugno mi chiedevano il campo sportivo. Per me è stata una sfida riuscire ad impegnarmi il più possibile per cercare di far diventare in realtà questa situazione che stiamo vivendo oggi. Io mi auguro che accanto all'inaugurazione di oggi ci sia un calendario che consente quotidianamente ai detenuti a turni di utilizzare questo campo sportivo. Certo, per utilizzarlo, lo voglio dire in anticipo, c'è bisogno anche di personale. In campo gli atleti dell'associazione sportiva Sandro Abate e Five Socher per la creazione di uno spazio libero di incontro e socializzazione al servizio della comunità penitenziaria. L'esperienza nuova che ci rende onore perché partecipiamo a rendere felici questi ragazzi. Per noi è motivo di soddisfazione, è un punto di partenza verso la legalità. e comunque questa mattina è una vittoria per tutti, per restituire un po' di dignità ai detenuti che stanno in Italia. Una bella cosa, può essere come una lezione di vita, perché c'è tanto da imparare. Nella vita c'è sempre da imparare qualcosa. Il governo deve salvaguardare il super bonus, altrimenti migliaia di imprese falliranno. E il monito del presidente di Federcepi, Antonio Lombardi, intervistato a punto di vista dal direttore Pierluigi Melillo. Vediamo il servizio. Dopo la levata di scudi delle associazioni di categoria, il governo è pronto a trovare una soluzione di compromesso che evita il collasso delle aziende. Il super bonus continua a far discutere, ma è necessario salvaguardare un provvedimento che è stato fondamentale per l'economia. Cancellarlo significa uccidere il tessuto imprenditoriale edilizio. E l'allarme è lanciato dal presidente di Federcepi Costruzioni, Antonio Lombardi, intervistato dal direttore di Otto Channel per Luigi Melillo per la rubrica Punto di Vista. Sono già fallite, lo abbiamo detto, più di 1900 imprese nel 2022. Abbiamo a rischio fallimento tantissime imprese che hanno lavorato proprio per il super bonus e che grazie al super bonus che dice anche l'Istat ha segnato, ha fatto segnare al PIL italiano un incremento di più 3,7 punti, non è possibile che le imprese restino bloccate e addirittura rischino di fallire. L'altro tema caldo è il PNRR. L'Italia è indietro nella capacità di spesa e si rischia di vanificare i progetti, soprattutto per colpa della burocrazia. Nel 2022 abbiamo speso 21 miliardi di euro in meno rispetto a quelli preventivati. Questi sono dati che la dicono l'Unca su quanto la burocrazia italiana, la farraggenosità delle procedure e anche i tempi che purtroppo non riescono a rispettare le pubbliche amministrazioni possano mettere in crisi il PNRR. Le aree interne non restino isolate, c'è il rischio che il progetto Alta Velocità, Alta Capacità offra poche occasioni al sannio e l'allarme del sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, che invita la politica ad intervenire per rompere l'isolamento del territorio. De Lucia. Spezzare l'isolamento creando collegamenti che possano valorizzare il territorio e risolvere l'annosa vertenza dei pendolari sono gli obiettivi rimarcati dal sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, che dopo aver preso parte a Caserta all'incontro dell'Associazione Pendolari, sannio, terra di lavoro, rilancia la necessità di un'azione comune. Se per la rete Alta Velocità, Alta Capacità, Napoli Bari siamo a buon punto, manca ancora un programma per le zone interni. Non è dato sapere concretamente che cosa poi alla fine accadrà rispetto a questi collegamenti che noi chiediamo tra l'area interna e l'area metropolitana di Napoli, di Caserta e di Afragola. Ci è stato assicurato che Trenitalia metterà a disposizione su questa nuova linea altri convogli e altre linee, ma questo evidentemente non è sufficiente e per questo io ho chiesto una sessione speciale qui in provincia di Benavento, segnatamente a Dugenta. E dunque nelle prossime settimane è previsto un tavolo di lavoro sull'argomento a cui saranno invitati i sindaci, la deputazione parlamentare regionale. Per fare il punto e per stabilire che cosa si vorrà fare del nostro territorio provinciale che è stato così generoso e non ha creato particolare difficoltà nel far attraversare il proprio territorio e per far realizzare questa importantissima opera, strategica sicuramente per il Sud, ma che deve dare un risultato utile anche al nostro territorio. E ad Avellino si lavora una a tre giorni per mettere al centro proprio il rilancio delle aree interne, prove di disgelo tra comune e provincia in vista dell'appuntamento di metà giugno fortemente voluto dall'assessore provinciale e comunale Diego Guerriero. Sentiamo. Prove di disgelo tra il presidente della provincia Buonopana e il sindaco Festa. L'occasione l'ha offerta il consigliere provinciale e comunale Diego Guerriero che li ha riuniti allo stesso tavolo per promuovere gli stati generali delle aree interne. Una a tre giorni in programma a metà giugno in cui elaborare un documento con proposte e soluzioni per migliorare i servizi nelle terre dell'osso. È una modalità di confronto, un'animazione dal basso su temi importanti per le aree interne, quindi la sanità, lo spopolamento, i borghi, il lavoro, la mobilità. È un metodo in realtà che anche in passato è stato in qualche modo utilizzato, oggi in maniera molto più organizzata. Ci saranno contributi scientifici, ci saranno dei tavoli tecnici, tematici per giungere ad una conclusione, quindi fornire un documento, una traccia su cui lavorare. I nostri interlocutori inevitabilmente saranno Regione Campania e più in là, perché no, anche il Governo nazionale. Parlando del Governo nazionale io non posso non valutare la condizione attuale normativa, non abbiamo strumenti normativi che riguardano la gestione o magari anche la pianificazione delle aree interne. Per il Siedaco Festa su questi argomenti non può che esserci sinergia istituzionale. Comune e provincia vanno di comune accordo per offrire all'Irpinia una progettualità in grado di consentire uno sviluppo territoriale, turistico, culturale e anche una riorganizzazione dei servizi. Valorizzare l'agricoltura di qualità per ottenere uno sviluppo globale dei territori e la sfida che ha lanciato da Salerno Confagricoltura. Sentiamo Filippo Lotari. Generare valore per ottenere valore è la strada indicata da Confagricoltura. Nel corso di una tavola rotonda sull'agricoltura di qualità organizzata a Salerno, il dibattito ha visto la partecipazione anche di diversi imprenditori del settore che hanno sottolineato l'importanza di costruire una rete per tutelare gli stili di vita mediterranei. Secondo me ci vuole un grande patto fra la componente privata e i diversi livelli istituzionali per riuscire a generare un'alleanza che sviluppi strategie che guardino a queste minacce prima che queste minacce si profilino all'orizzonte, che le intuiscano e che stabiliscano prima quali sono le azioni da predisporre. Un percorso che vede in prima linea anche le istituzioni. Insomma c'è da fare tanto lavoro e parlare di eccellenza, di sviluppo locale, parlare di queste cose qui è fondamentale, però non dobbiamo dimenticare che dobbiamo dare un occhio anche ai servizi, alle attività extraagricole per tutelare le aree interne e questa agricoltura che ci consente di pensare al prodotto, per esempio Slow Food. Per Confagricoltura inoltre solo valorizzando le eccellenze dei territori si potrà ottenere uno sviluppo globale del settore. Solo mettendo insieme questi produttori e creando dei consorzi di qualità e elevando lo standard anche produttivo e qualitativo di questi prodotti possiamo dare delle garanzie a questi produttori per la collocazione del prodotto in ambito dei mercati nazionali e internazionali. I saldi vanno verso la fine ma il bilancio è negativo, vendite decisamente più basse rispetto alle attese, spiega il presidente Confesar Centi Benevento Alvigi, secondo il quale sul calo delle vendite avrebbero influito anche le modifiche al rendito di cittadinanza. Ima Tedesco. Ultimi giorni di saldi, la stagione delle svendite invernali termina formalmente il 31 marzo, ma pochi giorni dalla fine degli sconti per i commercianti è già tempo di bilanci. Ancora una volta però il risultato appare con il segno meno e secondo il presidente della Confesar Centi Provinciale di Benevento ad aver influito sul calo delle vendite anche le annunciate modifiche al reddito di cittadinanza. Effettivamente si è vista la negatività che ci sta in giro e la mancanza di liquidità che hanno le famiglie prevalentemente. Quest'anno dal mio modesto punto di vista anche chi aveva il reddito di cittadinanza se si è visto sottratto qualcosa nella nostra piccola comunità ha dato il suo peso. È venuta meno anche quella piccola, diciamo, consistenza sulla quale uno contava. A pesare sulle vendite inoltre, caro bollette, spese in aumento per le famiglie. La guerra delle bollette, la guerra della rata di mutuo arretrato, la guerra delle tasse universitarie. E dunque, secondo Alvigi, nel sagno il calo delle vendite risulta anche più alto del 30% registrato su base regionale. È a livello numerico che si è vista poco gente propensa all'acquisto. Al di là della percentuale, in Campania intorno al 30% dato Confesar Centi regionale, Benevento si è vista meno gente in giro. Quindi è questo quello che ti fa capire che effettivamente non c'è potere d'acquisto. In chiusura parliamo di violenza di genere. Un posto occupato in Aula Consiliare per le vittime di femminicidio, presentata all'iniziativa del Comune di Avellino. Vediamo. Uno degli scranni dell'Aula Consiliare di Palazzo di Città da oggi sarà occupato simbolicamente da tutte le donne vittime di femminicidio. Il Comune di Avellino aderisce così a una campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema per mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sul fenomeno sempre più crescente della violenza di genere. Un tema sicuramente cruciale, importante, che è sì di natura culturale, ma direi una piaga sociale, una questione sociale che riguarda ognuno di noi. Quindi ringrazio chiaramente la Regione Campania per l'opportunità. Contestualmente ci impegniamo, unitamente alle associazioni che operano sul territorio, a dire no alla violenza in ogni sua forma e l'espressione ed attuare concretamente un percorso di tutela. C'è bisogno di un sostegno per le donne vittime di violenza, perché le donne spesso non denunciano perché non hanno l'autonomia economica. Tant'è vero che la legge regionale sulla parità salariale e l'occupazione femminile prevede all'articolo 10 degli incentivi alle imprese per assumere a tempo indeterminato le donne vittime di violenza, perché il punto è esattamente quello, cioè permettere alle donne di avere un'autonomia tale da poter denunciare e quindi riprendere e ricostruire un proprio futuro. E va bene, è tutto per questa edizione di 8 Channel News. Grazie in regia ad Aldo Fenizia. Vi lascio dalle previsioni del tempo. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.